Salve cari deuterostomi non iscritti! Forse siete capitati su questo canale per caso, o magari vi è stato suggerito. In entrambi i casi potreste starvi ponendo una domanda fondamentale. Ma che cos'è Zio Darwin? Per farla breve, Zio Darwin è un canale di divulgazione scientifica che si occupa di biologia, in particolare evoluzione, e lo fa con disegnetti e fumetti. Se vi ho incuriosito, prego, mettetevi comodi e godetevi qualche video in compagnia di Gino la piantina grassa e di tutti gli altri personaggi. Se i video vi piacciono, mi raccomando, lasciate un mi piace, magari condivideteli dove preferite e iscrivetevi al canale. No davvero, iscrivetevi al canale, lo dico per il vostro bene, abbiamo un musco con qualche problema. Io vi ho avvisati eh.